Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Luca, capitolo 17, versetti 11 a 19. Il brano ci parla di Gesù che, mentre stava in viaggio verso Gerusalemme, attraverso la Galilea e la Samaria, incontra dieci lebrosi che gridavano che Gesù Maestro abbia pietà di noi. Questi lebrosi non potevano avvicinarsi da Gesù perché erano impurro, secondo il libro di Levitico, nel capitolo 13, che impuro non può avvicinarsi da una persona sana per evitare la contaminazione, il contagio. Quando li ha viste, Gesù non ha toccato nessuno di questi lebrosi, ha detto soltanto andate a presentarvi dal sacerdote, sempre in questo capitolo 13 del Levitico, ecco nel versetto 49, il sacerdote dovrebbe dare un certificato della guarigione, perché una volta guarito, una volta ricevuto il certificato, si conferma la guarigione, allora il lebroso diventa puro e può riprendere le sue attività di priva. Prima di questo non può perché lebra una malattia contagiosa e un lebroso era sempre fuori società per evitare, come ho detto prima, il contagio. La cosa curiosa è che su 10 uno solo è tornato a ringraziare il Signore di questa opera e Luca, sottolinea, era un samaritano. Sottolineando questo, qui potremmo riferirci a Luca 10, la parabola del buon samaritano. Un levito è passato e un altro è passato, ma un samaritano che ha visto un ebreo per terra non è passato, ha preso cura di lui. Che cosa significano tutto quanto? Come per dire, questi nuovi potrebbero rappresentarsi come il popolo ebreo che pensa tutto scontato, il suo rapporto con il Signore è un po' stabile, non c'è da fare lo sforzo, meritiamo quello che meritiamo, inutile dire grazie, non serve, abbiamo già avuto tutto quanto, dunque ecco. Ma invece il samaritano non va verso il sacerdote, ma torna indietro e viene a ringraziare il Signore per queste sue meraviglie. Allora Gesù alla conclusione dice, ecco, la tua fede ci ha salvato. Dunque, si è passato da una guarigione fisica a una salvezza. Il lebroso non soltanto è stato guarito fisicamente, anche spiritualmente, e sta nella grazia del Signore. Ecco, carissimi, il comportamento che dobbiamo avere nei confronti di Dio, azione di grazia, come dirà San Paolo, in ogni circostanza rendiamo grazie al Signore. Tanti cristiani pregano Dio, sono disponibili, offrendo tutto quanto che hanno, vanno a messa, fanno novena, peregrinaggi, perché hanno un obiettivo da aggiungere. Una volta giunto, che fanno neanche un ringraziamento, vanno via, dimenticano Dio, perché hanno ottenuto ciò che volevano. Gesù dice, ma comunque in ogni circostanza ringraziamoci il Signore, perché tutto ciò che accade nella vita nostra come prodigio, come miracolo, non è merito nostro, ma perché è volontà del Signore. È Dio che conferisce, è Dio che dà a ciascuno di noi ciò che secondo Lui è necessario per la nostra vita. Allora, adottiamo l'atteggiamento di questo samaritano che ha ringraziato, ha riconosciuto Dio, ha riconosciuto la gratuità, il dono gratuito della guarigione, ha riconosciuto la potenza di Dio, ha detto, grazie Signore, grazie Signore. Ecco, carissimi, qualche volta nella vita nostra ti lamentiamo, ti lamentiamo, ah Dio ha fatto quello, non mi ascolta, può darsi che da tua vita non hai mai ringraziato il Signore. Non è per quello che il Signore non ci ascolterà, perché Dio è indipendente, Dio è onnipotente, i suoi pensieri non sono i nostri, ma qualche volta interroghiamoci, no? Perché non ho ringraziato il Signore. Parlando di questo ringraziamento, qualche volta anche tra di noi riceviamo i regali, ma ci manca dire grazie. Sembra che tutto è scontato, e quando dice a qualcuno, ma non hai detto grazie, perché devo dire grazie? Ma è importante. Questa gratitudine è un segno di riconoscimento, riconoscere comunque la volontà dell'altro, riconoscere la bontà dell'altro, riconoscere la volontà dell'altro, riconoscere anche l'amore che l'altro ha verso di te. Non è facile fare un regalo, non è facile aiutare, non è facile dare, ma quando riceviamo, diciamo grazie. E' lì che riceviamo anche noi grazie, e colui che ci ha dato, riceverà grazie su grazie. Che Dio veramente ci aiuti a riconoscere il benessere, a riconoscere, a essere gratitudini nella vita nostra, nei confronti di chi ci aiuti. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre.